Si sta già calmando Senti Ken no? Che fai il ruggito Ah eh se lo fa lei perché non lo può fare lui Vedi? Come comincia a filmare lei si ferma Guarda la sua coda che è tutta girata Che c'è questo adesso? Ma La tua mamma Ecco se la prende col tappeto Insomma col cuscino Allora Skipper se io ti giro il cuscino Della parte rossa tu ci fai vedere come sei brava E lo giri dalla parte a righe No Dai Vieni qui Skipper Facci vedere che giri il cuscino Beh Mangi la scrivania C'è comunque la costanza che ha Barbie con quella palla gialla Si l'orrebbe veramente di sbriciolare Ah Skipper C'è anche quando gli attrismentano lei si infranifili Erra Che Ma Un 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 Sì